Saranno 70 gli atleti lombardi che andranno alle Olimpiadi di Parigi, il numero maggiore rispetto alle altre regioni italiane. La Lombardia è trainante, Assessore, anche nello sport? La Lombardia è trainante anche nello sport, facciamo un grande in bocca al lupo ovviamente a tutti gli atleti italiani, e in particolare, in bocca al lupo particolare, è un ringraziamento agli atleti lombardi. Ringraziamento a loro, a tutti coloro che hanno permesso ovviamente di arrivare a questo numero, perché dietro ovviamente alla crescita di un atleta c'è non solo il sacrificio dell'atleta, l'impegno dell'atleta, ma ci sono anche squadre, ci sono allenatori, ci sono preparatori, ci sono volontari che nel mondo dello sport sono il fulcro. Se qualsiasi tipo di sport in Italia e ovviamente anche in Lombardia si basa su un esercito di persone che danno disponibilità per passione a contribuire alla crescita dei ragazzi. Quindi facciamo un grande in bocca al lupo e speriamo insomma che possano portare a casa un po' di medaglie. Se noi pensiamo che dalla provincia di Como andranno in sei e mentre dalla provincia di Lecco in tre, Chituro Ali per l'atletica e poi tutti gli altri sono per il canotaggio, sicuramente è una disciplina questa che potrebbe portare in provincia di Como e in provincia di Lecco una medaglia? Il canottaggio? Io me lo auguro insomma, abbiamo Antonio Rossi, l'amico Antonio Rossi, che è emblema di questo sport, è straordinario atleta e il canottaggio per noi è un punto di riferimento. Speriamo che possano seguire le ormi di Rossi e portare qualche medaglia sul nostro territorio. Tra l'altro mi ha fatto piacere, l'ho ricordato proprio oggi, questo passaggio di un atleta ormai in carrozzina, danno in carrozzina, che ha portato un pezzo della fiamma olimpica utilizzando un esoscheletro. Lo dico da assessore alla ricerca e innovazione perché io questo esoscheletro l'ho visto perché è stato presentato sei mesi fa, un anno fa, a Villa Beretta, quindi qui da noi. Di Costa Masnaga? In provincia di Lecco, di Costa Masnaga, col dottor Molteni, e quindi ti rendi conto di come la tecnologia e l'innovazione possano farci fare, in questo caso dei passi, persone che non riuscirono più a camminare e quindi dobbiamo continuare a investire lì. Ho sentito questa immagine, che non so se qualcuno ha visto, di questo ragazzo che ovviamente ha ripreso a camminare attraverso l'esoscheletro e ha portato un pezzo del tratto della fiamma olimpica. Bellissimo.